Ennesima richiesta per chiarire la situazione cimitero. Ad avanzarla il Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico. L'istanza inviata al Comune fa seguito a quelle inviate il 25 gennaio ed il 27 febbraio. Alla base la necessità di dare risposte a coloro che hanno stipulato il contratto di concessione col Comune e che sono ancora in attesa della conclusione dei lavori. Per tale motivo il Comitato chiede di conoscere la data precisa della consegna delle opere in modo da chiarire anche le modalità di restituzione del 35% ai concessionari come concordato in fase di stesura di contratto. All'ente comunale dice Panico chiediamo di dare risposta ai concessionari in modo da fornire dei chiarimenti riguardo alla restituzione del 35% offerto in sede di gara d'appalto dalla ditta aggiudicatrice dei lavori.